Musica Da campo, di forza fino in fondo Cambio mano in corsa E mentre si fa largo Ponziani con voglia Lo fa uno, due volte fino in fondo Ponziani Di voglia, di forza, Trapani Contro Chinellato che deve tornare indietro Trapani, ti tira in faccia E mata bersaglia la tripla Per la piazza, lontano da canestro Arriva il blocco di Paesano Piazza, perfetta esecuzione Trapalla di Tomassini Per la super schiacciata di Alessandro Ceparano Cercherà doppio contento Arriva la persa, recupera Ceparano Che vuole volare al ferro Lo fa, meno 4 Rieti Tomassini con Gasparin Alla meglio, l'undici di Ordinuovi Beh gioca due con Planezio E Gasparin Mostra i muscoli Con la schiacciata dei più dieci Trapani, 6 secondi Alessandrini contro Piccin Leonzio riceve Prende e segna Il finale all'invoca arena di Busto Orsizio E 66 Orsinuovi 45 Rieti Fiss per l'Agrin Per doppio Orsinuovi Questo risultato ci darà sicuramente fiducia E morale per la consapevolezza di avere le qualità E le potenzialità per poter far bene Prende e segna Il secondo Anche le potenziali E le potenziali Ci sono Il momento Devevamo di più Devevamo veramente di più Eravamo Eravamo, direi, impermabili E' quindi abbiamo vinto il campionato Messeggiamo, che è quello che ci meritiamo e la domenica si ritorna a battagliare per il campionato che è l'obiettivo principale di quest'anno Ed è il momento di Orsi Nuovi che vince la Coppa Italia all'NB di Serie B 2023